Ciao Ilaria, eccoti, finalmente. Allora, a me bene. Io so che di solito inizio queste dirette con una domanda abbastanza sciocca, però in realtà chiedo a tutti se sono in pantofole. Io però so che tu sei in pantofole, sei a letto, perché da quando? Circa un mese ormai? È dal 12 che mi sono ammalata, il 12 pomeriggio. Perché tu sei in compagnia diciamo di un amico abbastanza particolare, ovvero il virus che è in questo momento. Sì, sì, il virus più famoso del momento io non me lo sono fatto mancare, ecco. Però adesso stai meglio, stai migliorando. Sì, 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 oggi faccio quattro giorni che non ho i dolori. Festeggiamo. Non ho qui il vino, però festeggiamo, vai. Infatti, no, ma me lo voglio comprare, perché l'11 voglio festeggiare a prescindere, anche se ho nause di tutti i generi, però voglio farmi un bicchiere di vino. Se riesco a berlo, me lo farò per festeggiare la vita. Tu in questo momento sei a Madrid, giusto? Sì, vabbè, ti dico giusto, in realtà lo so, sì, sei a Madrid, quindi sei praticamente eri di passaggio a Madrid dopo Londra, giusto? Sì, ero venuta in vacanza qui a Madrid e la prima settimana l'ho vista e adesso dal dal 13 sono qui in un apart hotel, che è una stanza d'hotel, ma ha la cucina per fortuna e niente, sono in isolamento qui, perché così mi è stato imposto, vabbè, in quarantena poi come tutti del resto. E niente, l'hotel è stato evacuato, quindi non c'è né personale né cliente, ma ci sono io. E oggi ho pure scoperto che ho la lavanderia, una stanzetta qua con le lavatrici, quindi sono riuscita anche a fare autogestione in hotel. Dimmi chi va in hotel per farsi queste cose, cioè, io ho già messo 5 stelle su TripAdvisor, perché in realtà mi hanno salvato la vita, perché se non potevo rimanere qua non so dove potevo andare, insomma, quindi li ringrazierò sempre, gli regalano una foto. Quindi diciamo, sei stata comunque fortunata nel frattempo che comunque eri già in una situazione diciamo abbastanza, tra virgolette, comoda, in cui passare appunto... La cavola. Tra l'altro sei in centro a Madrid, quindi potrai vedere dalla finestra, quindi... No, dalla finestra c'è una parete con tre finestrelle, perché c'è la faccia del palazzo di fronte, quindi non posso vedere niente di Madrid, però vabbè, in realtà sto in una zona bellissima, dicono, perché è zona malasagna e dicono che è super centrale, super viva, ma in altri momenti, in questo momento, non la potrò sfruttare, però vabbè. Vabbè, lì saranno... so che anche in Spagna, diciamo, stanno vivendo quello che abbiamo vissuto noi, più o meno nelle zone di Bergamo, quindi insomma c'è stato... anche perché poi in realtà, non so se lo sai, però diciamo tutta la questione di Bergamo è nata anche per una partita che c'è stata, Atalanta-Valencia, e tant'è che Valencia è uno dei focolai lì in Spagna, quindi c'è stato più o meno... sì sì, c'è stato... adesso tra l'altro poco prima di sentirci stavo leggendo proprio un articolo, credo sul Corriere, su Bergamo, su varie cose che ci sono state appunto di... vari errori logistici che ci sono stati anche negli ospedali, insomma lì non è una situazione proprio... è una situazione veramente drammatica a Bergamo, però insomma speriamo che pian piano... qua le notizie dicono che comunque i contagi stanno diminuendo e quindi speriamo che in qualche modo siamo, diciamo, non dico alla fine, però iniziamo ad intravedere un po' l'uscita. Poi ovviamente questa cosa sta dilagando un po' ovunque, se arrivano notizie per esempio in Inghilterra c'è Boris Johnson, sai che adesso si è ricoverato, anche lui... è una situazione veramente... anche a Madrid la situazione sta peggiorando perché è un focolaio abbastanza grande, mi dicono, quindi anche la Spagna, insomma che tra l'altro la Spagna è stata tra i paesi che subito ha agito più velocemente possibile dopo la notizia dell'Italia e credo una settimana dopo hanno chiuso tutto. Io il 12 dovevo tornare a Londra, illuminazione divina, ho scelto di non partire, mi ringrazierò sempre per quello e mi sono salvata la vita indirettamente perché io poi quel pomeriggio mi sono sentita male, quindi tra l'altro ho salvato forse la vita senza volerlo anche a tutto l'aeroporto di Madrid al mio volo aereo e a Stansted che era l'aeroporto dove sarei atterrata a Londra perché non ero consapevole ma già avevo contratto il virus sicuramente dal 12 pomeriggio già ho cominciato a sviluppare prima sintomi, quindi insomma per fortuna non ho contribuito almeno per quello che ne sono consapevole ad espandere questo simpatico corona che sta da queste parti che ci porta insomma ad inventarci secondo me, no? Perché vabbè io comincio un attimino a reagire da un paio di giorni e non ho libri, ho solo la macchina fotografica, non ho libri, ho il pc, ho il cellulare e oggi poco per volta ho detto magari mi metto a fare qualche foto, certo non delle mie che mi metto a saltare per ovvi motivi perché sennò ci sarà l'autoscatto del cadavere della... non lo trovo molto... ecco così preferirei evitare per ovvi motivi però diciamo che... Hai iniziato un po' a comunque a diciamo a riprendere la tua attività di artista. Per forza, se no che fai? Insomma io mi sto a vedere tutti i video di Vincenzo De Luca che sono diventata fan, mi sono vista tutti i video di bricolage eccetera, tutte le conferenze d'arte possibili, immaginabili, dopo un po' non ho Netflix, chiedo scusa e quindi siamo io YouTube, a un certo punto YouTube che mi ha chiesto, ha detto senti mo cominciate a fare video, infatti vedi stiamo facendo i live e poi mi ha detto lei abbiamo finiti, aiutaci tu e abbiamo cominciato ecco a cercare di essere utili il più possibile per quanto... L'altro giorno c'era una battuta, non mi ricordo chi diceva, vabbè a parte i primi esperimenti dei Lumiere ormai ho visto tutto il catalogo Netflix, perché ovviamente sai la maggior parte di noi si è qui da un mese, quindi effettivamente ok riusciamo a fare qualcosa però effettivamente diciamo abbiamo molto più tempo libero rispetto a prima e quindi dobbiamo fare qualcosa. Non siamo abituati secondo me, quindi è un po' uno shock. Mi hanno già detto che dopo quando mi recupererò, a parte il controllo degli organi che possono essere stati danneggiati dal virus, mi hanno anche invitato ad andare da uno psicologo, il che non lo so se è relativo già, se già da prima ne avevo bisogno, mi hanno detto dopo questo periodo sia di quarantena che per il virus eccetera, potresti sviluppare alcune fissazioni e non lo so, insomma io già partivo avvantaggiata, quindi è dubbio. Come tutti quelli che amano la fotografia siamo un po', se parlo in plurale, un po' ossessivi, un po' maniacali, sai dopo 12 ore che stai sul computer ti accorgi che c'è una vita fuori. Noi partivamo avvantaggiati comunque poi sulle qualsiasi. Io facendo anche molto video in realtà sono abituato proprio a stare lì da solo davanti al computer ore e ore di montaggio video con le cuffie completamente isolato, quindi in qualche modo forse mi ha salvato questa cosa devo dire. Sì sì, secondo me noi siamo partiti proprio avvantagentissimi, vedo persone che cominciano a dare segni giustamente, no? Persone più socievoli di noi o più abituate all'area per, ma io passavo anche settimane a lavorare al PC, mi sfamavo, ecco, quindi nel senso poi da parte i sintomi della malattia che insomma li avrei evitati volentieri, per quanto riguarda la quarantena noi siamo, insomma, partiamo veramente psicologicamente avvantaggiati, diciamo mettiamo così. Senti, parliamo un po' di te, allora io ti ho chiamato, tu sai, come sai, noi stiamo facendo questa serie di dirette per dare degli spunti, diciamo, ai fotografi che sono a casa in questo momento, un po' per sensibilizzare anche, diciamo, era partito tutto, come ti avevo spiegato anche prima al telefono, dall'idea di tenere i fotografi più a casa il più possibile, perché appunto qui in Italia c'è stato, sicuramente ci sarà anche altrove, all'inizio ci sono stati molti fotografi che accettando delle città vuote hanno iniziato a girare mentre tutti dicevano state a casa, qualcuno ci ha scritto, ah ma io se non vado in giro non so cosa fare, vabbè, to diciamo noi cosa fare, quindi abbiamo fatto questa serie di dirette, insomma abbiamo parlato di diverse cose, c'è stato Giovanni, Gastel, Piero Gemelli, Maria Vittoria Bacaos, ognuno di loro ha dato un po' degli spunti su varie tematiche. Abbiamo parlato già del ritratto con Marina Lessi, abbiamo già parlato anche con Efrem Reimondi, avevamo accennato il ritratto, io però volevo parlare con te per una cosa, cioè per quello che tu fai nella tua arte, perché tu sei fotografa, però in realtà sei un artista che utilizza la fotografia per le proprie opere d'arte, cioè tu diciamo lavori molto sull'autoritratto e lavori sull'autoritratto in una maniera molto particolare. Anzitutto ti volevo chiedere un po', come è nata in te l'idea o comunque l'esigenza di lavorare sull'autoritratto? Racconta un po' la tua storia, perché hai una tua storia abbastanza particolare. Allora, è nato per disperazione e per povertà, nel senso che non avevo nessuna, nessuna, nessuno strumento, se non il mio corpo e questa macchina fotografica che mi aveva regalato una mia amica. Io avevo quello. Ma non è, cioè la mia non era un'intenzione, non è nata con l'intenzione di mettermi a fare foto, né come fotografa, né come artista, né niente. Io ho cominciato a fotografarmi inizialmente perché dovevo mostrare, io facevo dei cappelli, maschere, eccetera, e allora mi serviva un supporto visivo per far comprendere queste cose. Poi ho cominciato a prenderci gusto e ho cominciato a farmi autoscatti perché stavo affrontando un periodo terribile nella mia vita e ci tengo a dirlo, secondo me la fotografia non penso solo a me, mi ha veramente, ho salvato la vita, ho mantenuto a galla in molte occasioni, tra le quali questa recentissima, però anche iniziato, diciamo, verso i miei trent'anni, senza alcuna intenzione creativa, artistica, non ne poteva fregare di meno. Io semplicemente ho cominciato a studiarmi, a togliere quei cappelli che facevo, a smettere di fare quei cappelli perché io prima mi muovevo come stylist per i fotografi, e a cominciare a, non lo so, a vedermi attraverso la macchina fotografica. È stato un periodo terribile che non so se ha causato la macchina anche inizialmente oppure ha solo aiutato ad affrontare, diciamo, un periodo in cui iniziavo a fare i conti con me stessa, nel senso mi ero, ero caduta in una fortissima depressione causata da probabilmente la scoperta che mi ero innamorata per la prima volta di una ragazza, che ovviamente non ci vedo niente di male, però quando facciamo con noi stessi, a un certo punto ti scopri e dici, aspetta un attimo, io avevo le mie certezze, le mie realtà, io lavoro nella moda come stylist, vivo a Milano, mi piace il maschio, cerco di non essere volgate. A un certo punto scopri che ci sono delle cose che non so, che eri sicura che non appartenessero a te, che poi in realtà poi scopri che noi siamo un po' tutto, un po' tutti. E la macchina fotografica inizialmente l'ho trovata come un modo per cercare risposte che non c'erano, perché insomma attraverso la fotografia inizialmente pensi, o almeno questo è stato il mio grande errore, ma anche la mia grande fortuna da principiante nella vita, quello che all'inizio pensi, la macchina fotografica è uno strumento che mi riproduce un'immagine che io sto guardando e in realtà poi scopri che è molto di più, che sta mostrando il tuo mondo interiore attraverso l'immagine che stai guardando, è molto più introspettiva, è molto più scienza, perché riguardando poi quelle prime foto e un po' tutte ho cominciato a ricevere le risposte, non sono bellissime le risposte che ricevi, ma ti aiutano a continuare a scavare nel profondo. Secondo me l'autoscatto, almeno come lo vivo io, è un atto estremamente egoistico, perché lo faccio per dire che cosa mi vuoi dire che non riesco né a ascoltarti né a sentirti in nessun modo e attraverso l'autoscatto è un gioco di subconscio, secondo me, in cui rivedendomi colgo la domanda che non conoscevo, ma abbinata a una risposta sicuramente mia e mi ha aiutato sicuramente ad affrontare poi i vari processi, perché poi è stato un effetto domino. La goccia è stata questa scoperta di una parte di me, anche se vuoi, semplice, però poi ho cominciato attraverso la fotografia e attraverso la fotografarmi il corpo ad affrontare invece un percorso personale sempre più profondo, sempre più a ritroso. Ma non lo so se è effettivamente un percorso che farebbe un terapeuta, non è che lo consiglio io, però sicuramente a me è aiutato. Sì. Ma tu hai iniziato a mostrare subito le cose che facevi o hai aspettato un po' prima di... No, perché... Allora, ho perseguito, poverino, ho maltrattato e torturato tutti i fotografi che conoscevo all'epoca, infatti penso che nessuno sia rimasto tra i miei contatti, perché ho cominciato all'inizio, sai, leggo una cretina, insomma, diciamolo. A un certo punto ho cominciato a chiedere il parere ad altri fotografi, con la pretesa che chissà che, con l'arroganza di chi sta al terzo giorno di un corso di dieci anni, che comincia a scoprire che non sei un cazzo, allora quelle due cose che comincia a sapere le reputi di fondamentale importanza. Ma era molto ironico, ridicolo secondo me, perché io chiedevo conferma ai fotografi, poi tra l'altro di moda, quindi che c'entravano relativamente meno. Ma io, per come vedo, non so come vedo, perché io, non avendoci un occhio, io vedo... Non lo so come vedo rispetto a voi. Quindi cercavo di emulare la visione del normo vedente, ma non potendolo fare, era proprio... Cioè, mi sono ritrovata a un certo punto, ho detto, Ila, tu stai facendo un meccanismo ridicolo. Stai cercando di fare delle foto, non sapendo quello che fai, uguale a chi vuoi emulare. È ridicolo questo ragionamento. Butta te e fai quello che vuoi, tanto che te ne frega, lo stai facendo per te. E mi sono poco per volta liberata di tutti questi schemi che mi andavo costruendo, boh, non lo so, per ego, per vanità, per, non lo so, per quale... Per paura, forse. Sì, sì, no, vi voglio dire, raccontiamo un attimo la tua storia, perché tu, diciamo, se hai avuto... Oddio, aspetta, ci siamo. Ok, no, vabbè, tranquilla, è successo... È successo anche altre volte, tranquilla. No, dicevo, tu hai una storia abbastanza particolare, perché tu hai avuto un retinoblastoma da bambina, e poi parleremo anche delle operazioni che hai fatto, diciamo, non delle operazioni, cioè dei progetti che hai fatto e costruito appunto su questo, e la mostra che hai fatto, retinoblastoma, io adesso, questo pian piano faremo vedere. E quindi, diciamo, a causa di questo tumore, da bambina, tu hai perso un occhio, come dicevi prima. Leonardo. Lo chiamo... Ah, no, questo che vedo lo chiamo Leonardo, questo lo chiamo Bacon, no, dal mangiare, ma dall'artista, perché... Sì, scusa se ti ho interrotto. No, no, vai, tranquilla, devi parlare tu, non io, quindi... No, io li chiamo così perché poi pare offensivo, secondo me mi sono utili entrambi per un lavoro della fotografia, ma penso nella vita in generale. Sì, a due anni sono stata diagnosticata di retinoblastoma unilaterale, cioè solo un occhio, ed è un tumore alquanto raro, che colpisce la retina dell'occhio e che normalmente non ha sintomi e colpisce nei primissimi anni d'età. Quindi in realtà non si sa se effettivamente non ha sintomi o no. Leggermente, in alcuni casi si mostra come un'ombra o un riflesso nella pupilla. La cosa bellissima, ovviamente bellissima, con i relativi... Insomma, preso... Tra virgolette. ...per me, eh, da artista bellissimo, è il fatto che in realtà si sono accorti di questo tumore facendomi una foto con il flash. All'epoca, parliamo degli anni Ottanta, eh? Non c'era Facebook, non c'era niente. E mia madre, i miei zii, non lo so, facendomi le foto col flash, poi l'hanno sviluppata in quei tempi dell'epoca, si sono accorti che proprio ecco la pupilla dell'occhio sinistro risultava bianca invece che rossa. Sai, col flash è rosso. E mia madre, insospettita di questa cosa particolare, ha cominciato, insomma, a chiedere un po' aiuto. È stata presa un po' per matta, perché, insomma, immaginate, oddio, una foto ne è venuta bene e hanno detto signora, sua figlia, va bene. Ora che venga male in una foto non mi sembra motivo di grande stress. Invece, purtroppo, è... si è rivelato, appunto, un tumore ed è stata la macchina fotografica che io considero mi ha veramente salvato la vita a prima botta. La cosa bella è che ancora oggi si salvano vite con questo, che è importante dirlo, perché proprio il flash delle macchine fotografiche, anche tra le più moderne, ancora può mettere in evidenza questo, come può essere anche un difetto dello scatto, per carità. Sì, sì, quello è vero, però, per esempio, leggevo di una sorta di diagnosi a distanza addirittura, che è avvenuto in uno di questi casi. Cioè, una mamma ha postato su Facebook una foto della propria figlia e un medico ha visto questa foto e ha individuato, ha detto alla mamma, ha detto, guarda, falla controllare perché c'è qualcosa che non va. Ed effettivamente la bambina aveva anche lei il retinoblastoma, diciamo, perché, appunto, è una sorta di macchia oppaca, tipo una cataratta, diciamo. Più o meno come si vede una cataratta nell'occhio, più o meno. Purtroppo, quando è a quello stadio, probabilmente l'occhio è già compromesso, però l'importante è comunque salvare la vita a quel punto, certamente. E sì, si continuano a salvare vite anche con questo piccolo, diciamo, caso, perché poi è una casualità, no? E però l'importante è conoscerlo, perché per me poi è diventato importante, perché mi sono accorta che questo, ecco, nel percorso iniziale delle fotografie, poi poco per volta sono arrivata a questo mega muro che avevo messo tra me e questa esperienza, perché io vengo da una generazione in cui non si parla, non si vede, non si dice, non c'è. Insomma, diciamo, senza voler ora colpevolizzare gli anni Ottanta nel mondo, però, insomma, sono stata… Sono anch'io figlio degli anni Ottanta, quindi… Anzi, proprio dell'Ottanta. Anzi, è giovanissimo. Io ho proprio 1980, quindi… Tondo, tondo. Eh, vedi, io ho 82, però… Vabbè, non è di mostro 56 per mio stato… Ma va, ma smettila. Però giuro che sono ancora giovane. Però, sì, quindi con la fotografia mi sono accorta a un certo punto che cominciavo ad affrontare quest'argomento e do… Magari dico una cretinata, però io do tanto merito alle mie foto a Bacon, perché vai a istinto. Io non è che seguo un processo creativo di tanta programmazione previa o di tanto studio previo. Vado molto estinto. E per questo lo chiamo inconscio o lavoro artistico. E vai al di là di quello che stai vedendo, ma senza accorgertene. Quindi io in questo do un merito all'occhio che non vede. Poi certo mi serve pure l'occhio che vede, ci mancheremo di far condiccio prima di tutto, perché sennò… Però mi ha permesso, secondo me, la fotografia poi poco per volta di andare accettando questo tabù mio che per 30 anni avevo messo in un cassetto e fine, con cui non avevo mai parlato con nessuno, nemmeno con i miei genitori, con mia sorella, con amici, eccetera. Non avevo mai menzionato minimamente questa cosa, perché così se non se ne parla, per me non esisteva problema risolto. Poi però la macchina fotografica mi ha insegnato che per conoscere devi vedere e per vedere devi avere il coraggio. E ho cominciato a vedere e mi ha, secondo me, aperto alla vita, perché solo se affronti quello che è stato nel bene nel male hai modo poi di utilizzarlo come materia, come qualunque altra materia, per essere utile, ma nel senso più poetico del termine, per te e per gli altri. Perché così come la fotografia mi ha salvato la vita, io lo considero anche ai miei 30 anni, perché io a 30 anni ho avuto una crisi molto profonda, depressiva, mi volevano, anche lì mi hanno proposto lo psichiatra, non lo psicologo. Insomma, mi ha tenuto in vita la fotografia per molto tempo tra Milano, poi ho lasciato Milano, sono arrivata a Londra e Londra mi ha dato l'ammazzata finale, sai, il colpo di grazia, il cavallo torpo, ecco, perché comunque Londra è una città estremamente difficile se ci arrivi sulla difensiva, secondo me, io amo follemente tutte le città in cui ho vissuto, però quando sono arrivata armata solo della macchina fotografica e due spicci in banca mi ha veramente messo alla prova. Adesso la ringrazio, perché Londra mi ha dato quello che mi mancava, secondo me, cioè un aspetto professionale nel viverti come un professionista e un'attività a tutti gli effetti, come qualunque altro mestiere, questo te lo insegna, secondo me, bene Londra, che l'artista è un mestiere e come tale va affrontato. Però l'autoscatto, ecco, in quel passaggio mi ha mantenuto, secondo me, in vita. Io mi accorgo proprio che, mi ricordo proprio che mi alzavo da letto e non per motivi di virus ma per depressione, solo per fare le foto, per cercare un senso alla mia esistenza perché non trovavo più il senso del vivere. Questo prima poi dell'accettare il retino della storia. Senti, tu sicuramente all'inizio, oltre ad aver, diciamo, chiesto un parere ai fotografi, avrai fatto vedere le fotografie alle persone che ti conoscevano già, diciamo, parenti, amici. Lo scandalo, signora mia. Lo scandalo, appunto. Volevo chiederti, come è stata, perché tu adesso le facciamo anche vedere pian piano le varie foto e iniziamo ad entrare, diciamo, nello specifico del tuo lavoro. Però com'è stata, diciamo, anche la reazione rispetto alle persone? Perché sai, quando fai un autoscatto, o comunque tu quando lavori sul nudo, ad esempio, sul proprio nudo, per esempio io, come dire, vedo con le persone come te, con le fotografie che come te fanno questo tipo di lavoro, io ho sempre una percezione, diciamo, distante tra la persona che conosco e le proprie fotografie, non distante nel senso di, diciamo, personalità o altro. Però riesco in qualche modo anche a distanziarmi dal loro lavoro, sai, a vedere un po' anche con occhio oggettivo il loro lavoro. Però immagino che magari nella tua cerchia, diciamo, di parenti, magari questa cosa qua ha avuto un forte impatto, no? La tragedia. Mi hanno fatto, è stata veramente durissima, perché non ci accorgiamo dei legami e di quanto dipendiamo dall'opinione dei nostri cari finché non si schierano contro, completamente contro il mio percorso. Ecco, adesso inizio a far vedere qualche foto tua. Ah, sì, sì, mi sono distratta. Mia madre l'ha vissuta veramente come un vero trauma, perché cercava di proteggermi in ogni modo per paura. Inizialmente per il nudo, ma poi anche per il percorso artistico, perché io l'ho cominciata a prendere seriamente dopo qualche anno per vivere solo della mia arte, come Londra insegna. Quindi mia mamma è ovviamente terrorizzata da questa cosa, che il nudo fosse comunque una questione di… ma non perché mia madre è particolarmente o cattolica o particolarmente bigotta, mia madre mi ha portato in giro per il mondo da quando ho dieci anni, è una donna fortissima, però aveva questo tabù del fatto che il lavoro è solamente quello dell'impiegato, perché da quella formazione viene, e che comunque di arte si scommette alla sofferenza, che è in parte vero, cioè diciamo, nel senso si scommette alla sofferenza, nel senso che è un percorso davvero duro, in cui ci si mette in gioco in modo profondo e sincero, e ogni giorno è una nuova sfida. Però per mia madre è stato veramente un trauma forte, che mi ha combattuto molto, glielo ho dovuta perdonare perché è stata in molti casi quasi crudele, perché un genitore che si siede davanti a te, che lavora al PC, che io ho mille sacrifici che facevo, andavo al mitico Starbucks perché non avevo la connessione per lavorare, per mandare le foto, per comunicarlo, e il tuo genitore che si siede e si mette a piangere perché stai lavorando alle foto, ti spezza il cuore. Io poi sono molto legata a mia madre, non solo perché mi ha dato la vita e salvata la vita in più di un'occasione, ma anche perché è il mio unico genitore a cui faccio riferimento costante. Quindi è stata una bella botta perché non ho avuto mai il sostegno, da nessun punto di vista, perché io poi mi sono sentita, ogni giustificazione è in merito al mio percorso, che c'avevo dietro qualcuno che mi mantenesse, vi posso assicurare che non è così, che vendevo perché a Londra è facile vendere, vi assicuro che non è così, i costi si triplicano perché Londra è una città molto più cara di Roma, ma della stessa Milano o figuriamoci di un paesino, di un paesino magari italiano. Quindi per me è stata la prima, la sfida più dura. Poi per questo dopo tutto diventa facile, cioè se qualcuno mi scrive le tue foto sono depressive, ieri ne ho beccato uno su LinkedIn, che non me lo filo mai LinkedIn, uno che mi ha scritto un mega papiro perché tu sei vanitosa, perché pensi che il tuo corpo opera d'arte. No, non ci hai capito, è proprio un cazzo. Giuro che non gli ho risposto così. Non gli ho risposto in base. Però avresti voluto, se sarebbe meritato. Eh ma perché comunque a me piace invece soffermarmi su quello che può essere il difetto, l'antiestetico, il corpo che ammicca nella sua imperfetta situazione, è quello che mi piace, cioè è quello che mostro. Sì, purtroppo diciamo che in questo genere di lavoro che tu fai, che comunque è un lavoro che in questo momento per certi aspetti fanno tantissime ragazze, ma non con i tuoi risultati, diciamo. Quindi molto probabilmente qualcuno può anche intravedere, adesso non per farti un complimento, però tu lo fai in una maniera molto particolare, adesso ci arriviamo anche. Molti possono anche vedere un modo per mettersi in mostra, effettivamente. Cioè diciamo che in questo momento il nudo artistico è una forma abbastanza anche abusata diciamo di questa fotografia, mentre tu invece lo fai con, diciamo, a parte un'intenzionalità completamente differente. Cioè tu appunto hai raccontato prima che l'hai fatto innanzitutto per te stessa e poi pian piano hai trasformato, diciamo, quelle fotografie in una forma d'arte che poi hai mostrato e venduto anche, quindi in una professione. E poi diciamo hai anche un tratto estetico molto molto particolare. Ora io non so per quale motivo l'iPad non mi permette di caricare più foto, perché ho appena scoperto questa funzione che posso trasmettere le foto. Io ho la prima cosa doppia che faccio con Instagram, cosa doppia pare brutto, nel senso... Mi sento onorato. E signori, la quarantena è per tutti, però insomma, quindi non so proprio come aiutarti. No, no, però no, no, al di là di tutto no, perché mi piacerebbe far vedere anche altre foto che avevo salvato, purtroppo mi mostro soltanto queste e altre due che mostrerò dopo. Comunque, dicevo, tu lo fai anche, diciamo, con una resa estetica abbastanza particolare, perché nella maggior parte dei casi, quando una, soprattutto una donna, fa un nudo artistico, ha un ritratto di nudo artistico, diciamo, c'è un precedente storico enorme che è Francesca Woodman. Se ne può più, signora mia. Io l'amo veramente, ma se tu provi a mettere bianco e nero, subito chiamano Francesca di Corsa. No, però sai, effettivamente lei è stata un po' la capostipide, diciamo, di questa tipologia di rappresentazione, che in realtà viene ancora oggi proposta in mille modi, anche se poi lei ha avuto una storia anche lì brevissima, poi si è suicidata credo a 23 anni. Era una ragazza che aveva due genitori artisti e quindi veniva già da una situazione abbastanza particolare. Viveva a Roma in queste case diroccate, che lei abitava con l'amico, le amiche, andava lì a fare queste foto. Lei ha creato, diciamo, uno stile che ancora oggi viene ripetuto. Tu invece ti sei completamente distaccata, seppur anche la tua fotografia viene fatta con pochi elementi. Che tu mi dicevi prima, mi hai fatto vedere anche una cosa che poi spero riusciamo a farla vedere. Ah sì, ti porto quando vuoi, è che così cerco di muovere il meno possibile il cellulare. No, no, però faccio vedere dopo. Però diciamo, tu hai fatto tutto questo, lo fai con pochissimo in realtà. Sì, quasi sempre luce naturale. Ora, nello specifico, quella è la luce normale di casa. Questa che vediamo, sì, per esempio anche questa. Scusami, adesso. Questa è luce naturale, sì, sì, sì. E tra l'altro è la luce di Londra, che se di luce già vogliamo parlare a Londra, già è un'esagerazione, perché è molto grigia, però io la amo, la luce è molto fredda e molto cupa, dramma. Roba che è Milano praticamente le Hawaii rispetto a quello come sono. Sì, questa è luce artificiale, però è una lampadina normale, la luce calda a destra. Non ce l'ho tutta la foto, ma a destra c'era il corridoio. Questa è una casa dei miei nonni che ho occupato in modo clandestino per qualche mese in un paesino vicino Roma, che si chiama Poggio Mirteto, che credo che conosco solo io e gli abitanti di Poggio. Questa è luce naturale romana, non so se volete notare la differenza. Effettivamente si nota una punta di giallo. Viva la luce romana. Ci ho visto tre anni e la conosco benissimo. La benedica, Caravaggio. Ecco un altro che mi nominano spesso, ma io non è che voglio sembrare riconoscente, sia Francesca Woodman che Caravaggio, sono stati grandissimi, grandissimi, cioè vabbè, io sono proprio fan di Caravaggio, una gruppi proprio, se fosse vivo mi ci attaccherei. Però sicuramente siamo nani sulle spalle dei giganti, nel senso che sono artisti che ci hanno formato, che ritroviamo e dai quali poi, secondo me, ci attraversano. E il nostro lavoro è anche grazie a loro, cioè viene filtrato da quello che conosciamo, dalle nostre esperienze e anche dagli studi fatti, dalle nostre passioni. Quindi penso sia normale che si veda una Woodman un po' in qualsiasi nudo di donna, bianco e nero, che non me ne vogliano. Woodman è molto più di questo, ovviamente, non è solo un bianco nero. Ovviamente sì. Ecco. No, perché ci tengo a chiarire, perché sai un po' se no. Però veniamo da questi grandissimi maestri. Guarda, io qui ho questa pubblicazione che si chiama Il Nudo nell'Arte, che è una pubblicazione che fece l'Espresso diversi anni fa e che io ebbi la fortuna, nel 99, pensa te, io forse ero il primo anno di università in Toscana, ebbi la fortuna di intercettarla e l'ho comprata. E adesso, appunto, prima di parlare con te, appunto, me lo sono andato a sfogliare e io direi che non è soltanto Caravaggio, perché io te l'ho sempre detto che nella tua fotografia ho sempre visto veramente tantissima storia dell'arte, io sono l'ultima storia dell'arte, quindi ti puoi immaginare come per me sia veramente una cosa. Però ci ho visto anche, ad esempio, Rubens nell'utilizzo sia della luce che dei corpi, nelle pose soprattutto. Io adesso nell'utilizzo dei drappeggi, c'era una qui che mi faceva, in cui avevo intravisto l'utilizzo dei drappeggi che fai tu anche. oltre a, quindi, insomma, sia la pittura barocca che la pittura rinascimentale, qua ad esempio il Correggio, perché tu non è soltanto una questione di luci e colori, è anche una questione di pose. Hai questo taglio, adesso questo taglio, tu utilizzi molto questo taglio tondo che è tipico della pittura. Cioè, non è un taglio che si vede molto spesso in fotografia. No, perché è difficile, eh, non voglio autovantarmi, però no, è difficile la fotografia nel tondo perché secondo me ti mette in evidenza invece ciò che magari può mancare. O comunque il tondo non è una forma prestabilita che la applichi a qualunque immagine. Spesso te la uccide. Quindi, però mi piace quella sfida anche. Sì, sì. No, però per dire, appunto, cioè sfogliando ad esempio, appunto, ripeto, sfogliando diciamo questo libro, appunto, vedi, anche qui c'è un utilizzo proprio del corpo, della luce che è, come dire, mutuata da Caravaggio, però poi, come dire, tu la utilizzi in maniera tua anche. Cioè, ripeto, il tuo non è pittorialismo, non è riprendere l'arte, diciamo, l'arte classica e rifarla to cure. Perché tu poi ci metti anche del tuo. Io adesso, appunto, mi dispiace, appunto, perché avevo salvato anche altre immagini che erano anche abbastanza forti, le ho trovate sul tuo sito. Quindi, nel caso, andate a cercare, andate a vedere il sito di Ilaria, vi troverete anche altri. Ripeto, il libro… Sì, non li mettere su Facebook o su Instagram senza censura che ti mandano i cecchini. No, 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 io adesso, come dico a tutti, quando faccio queste cose qui, io adesso cancellerò tutto, perché poi è anche una questione di… qualcuno ci chiedeva che libro è, non è un libro, sono tre volumi, editi dall'Espresso negli anni 99-2000, si trovavano in edicola, adesso non so se si trovano in giro. Si chiama Il nudo nell'arte, Eros, Natura e Artificio, e quindi, insomma, se vi capita… Per esempio, un'altra cosa… un'altra cosa… un'altra cosa in cui avevo rivisto le tue opere è Anibale Carracci, e qua c'ho questo bel mattone che trovai a Roma di una mostra dell'Electa fatta, credo, alle Scudine del Quirinale, in cui avevo trovato… comunque avevo rivisto un po' il tuo lavoro, quindi c'è… diciamo che tu comunque al di là… tu utilizzi la fotografia, ma le tue ispirazioni sono più sulla storia dell'arte, o sull'arte in generale. Ma anche lì è un lavoro inconscio, cioè nel senso io non… me ne sono accorta dopo che citavo l'arte, ed è anche un altro merito che do a Londra, nel senso che io a Londra mi sono scoperta innamorata del rinascimento, innamorata dell'arte italiana e della fortuna che ho avuto di essere nata e cresciuta gran parte della mia vita a Roma e a Milano, perché me ne sono accorta proprio allontanandomene. Stando a Londra è lì che in qualche modo mi mi sono scoperta più italiana, ma non perché c'è fosse una gara ovviamente, però è lì che il mio subconscio ha tirato fuori, forse nel nostalgico pensiero dell'eterna emigrata, perché io sono emigrata ovunque, non ho un punto di partenza, quindi io sono un'emigrata per definizione. Puoi vederla in un altro modo se sei cittadina del mondo, cioè non hai una patria, sei una persona che vive… La patria è ovunque, per me la patria è ovunque, io devo sempre dico, io vivo in modo tale che quando scriveranno, sai l'epitaffio, nata e morta, vissuto lì, mi si litigano tutti, perché tutte le città diranno, no è stata qui, no lì, questi sono i miei vaneggiamenti dai gonci, però dico sempre, sì sì, io amo tutti, e mi sento debitrice a tutte le città che mi hanno formata e che mi hanno dato, però escono come fuori più tardi, cioè la mia romanità è uscita a Londra, poi ho lasciato Londra, perché sono stato un anno e mezzo in giro per l'Italia due anni fa, ed è uscita a Londra, nel senso è stato un momento molto più focalizzato sulla parte imprenditoriale, dell'attività eccetera. Ora a Madrid non lo so che cosa uscirà fuori, però è come se bisogna… cioè escono queste parti quando sono mature dentro di noi, no? Ed è questa l'opportunità bellissima del conoscere sia un artista, una corrente, una città, una cultura, una nostra esperienza personale anche terribile, quale può essere il tumore, no? Perché devo tornare al discorso di prima, preferisco pure io Carracci, però ecco, tutto diventa materiale artistico, tutto diventa materiale fotografico, quindi non è proprio necessario per forza cercare un soggetto negli esterni, è bellissimo, non è che con questo voglia dire che ce l'ho con la street photography o con il reportage, bellissimo, però in tempi di guerra, signora mia, che non sono questi, ma in tempi di quarantena, di solitudine e di isolamento, possiamo fare tante… scatta lo spot pubblicitario, non so se hai notato scatto lo spot, compra anche tu un lenzuolo, fai anche tu… Un momento… ecco, no, appunto, io perché anche, come dire, mi interessava parlare con te, non solo per la questione dell'autoscatto, ma perché tu, oltre all'utilizzo della luce naturale, molto spesso, comunque di una sola fonte di luce e così, tu in realtà tu costruisci tutto questo set con lenzuola, panni, cioè quello che tu hai a casa fondamentalmente, o comunque non vai a cercare chissà cosa, cioè tu tutto quello, tu mi hai fatto vedere prima che è lì a Madrid, nell'albergo in cui ti trovi, mi hai fatto vedere che hai allestito un piccolo set… Aspetta, se vuoi te lo sposto se vuoi… Se te la senti, se te la senti di alzarti, ti facciamo vedere… Guardi, è stato eroico… Attenzione che se si vede la cucina non è proprio ordinatissima, ma c'ho la scusa del virus… Non te preoccupa, non te preoccupa… Allora, qui, aspettate, vi metto già in posa… facciamole… Allora, qui, come vedete, qui c'è… si vede la… Sì, sì, un lenzuolo… Ah, intanto vi faccio vedere la meravigliosa visuale che è la parete del vicino… Ha un suo perché… Allora, questo… dovevo stendere i lenzuoli che devi sempre disinfettare… All'ospedale mi hanno detto che devo sempre disinfettare… Perché se no te la ripassi… ti ricontaggi… Allora ho stesso qui, vicino alla finestra… E questo è un classico set hilariano… Cioè… Una luce naturale… E qui partiamo avvantaggiati perché è luce spagnola… Quindi… Simile alla romana… A quanto dicono… E delle lenzuola gentilmente fornite dall'hotel… Che è inconsapevole di questo… Luce naturale… Quindi, normalmente io mi metto… Praticamente sarei così… La luce naturale laterale… Di qua ho messo un altro faretto… Che è la lampadina luce calda… E… Questo è… Normalmente le foto che faccio… E… Anche… Sì… Anche a Londra… Anche a Roma… Quindi appunto… Cioè… Vi facendo vedere più o meno quello che tu fai… Cioè questo che voi vedete… Adesso… Se ti riesco a… No, purtroppo non riesco a passarlo… Però in realtà è fatto con quello… Cioè con… Sì… Allora… Quelli sono due… Due… Una… Una gonna sotto di raso… Che poi abbiamo anche lo studio… Del… Dei tessuti… L'effetto che fa… Nel senso… Ci sono dei tessuti che… Prendono meglio in fotografia… Alcuni peggio… E questo… Questo ti deriva diciamo… Dalla tua esperienza di stylist… Ma anche da… Ma anche dalle prove stesse… Cioè… Il tool è bastardo… Nel senso… Può avvenire una grande schifezza… Come un effetto molto bello… In quel caso… Il fondo… Quello là… È velluto… Simil velluto… Questo qua… Questa foto di prima? No… Quella turchese… Ah questa… È un pezzo di… Allora… Questo è proprio… Grandi… Grandissimi… Grandissimi livelli e strumenti… Quello è… Il divano della… Della mia ex conquilina… È il… Il cuscino del… Del divano… E l'ho messo come fondo… E davanti c'è… Mi pare che anche quello… È un po'… È tipo un po' plastica… Un po' tool… Era un… Secondo me… Un tool sintetico… Che mi aveva prestato un'amica… Quella là… È fatta a Londra… Il bello dei tessuti… È che… Non… Cioè… Non ci collegano direttamente… A un… A un… Contesto storico preciso… Che è una cosa che io… Mi sono scoperta… Fare… Senza rendermene conto… Ma adesso ne sono consapevole… Cioè… Questa cosa che… Il tessuto… Il nudo… Ci… E mai le scarpe… Ci permettono di… Secondo me… Di mostrare… Una… Una bellezza più senza tempo… E meno… Meno sessuale… Secondo me… A me quello che non piace… È che… Diventi… Un… Una cosa sessuale… Che c'è dell'erotismo… Penso… Credo… Qualcuno sostiene… Però… Allo stesso tempo… Che non sia un'immagine sexy… Ecco… Cerco di… Che non dia quello… Quindi… Il non abbigliamento… Ti aiuta… In questo caso… Il tessuto mosso… Che… Che poi prende delle forme… Che ovviamente… Non puoi riprodurre… E quindi… Si allontana… Dalla funzione… Del… 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 Del coprire… Ma diventa come un… Un elemento… Artistico… E… Aggiunto… A me piace molto quello… E… Per… Perché… Ci… Allontana… E là… Il discorso del… Simbolico… O dell'ideale… Che poi… Ha detto… Che… Te lo posso citare… O quello che ti sta antipatico… No, no… Vai tranquilla… Questo è un… Come dire… Aperto a tutti… Quindi… Ah no… No… Nel senso… Che poi… Il… Il… Il critico… Garbi… Che affronto come critico… E non come… Come… Persona… Individuale… È stato… Poi… Colui… Che mi ha fatto… Comprendere… Il lavoro… Che stavo facendo… Cioè… Io non lo facevo… Consapevolmente… Adesso… Di più… Sono più consapevole… Del mio percorso… Artistico… Sono più consapevole… Anche… Di… Diciamo… Tra virgolette… I miei cavalli di battaglia… Quello che più mi… Identifica… Se vuoi… Come… Come… Come scelta artistica… Però c'è… Però sempre… Nell'assoluta… Scarsezza… Dei mezzi… Anche perché… Nel frattempo… Non è che sono diventata milionaria… Quindi anche volendo… Non… Non… Ma… Senti… Penso che… Cioè… Se tu anche in questo momento… Fossi multimilionaria… Penso che comunque… Tu faresti la stessa cosa… Cioè… Perché ormai questo è il tuo stile… Cioè… La tua caratteristica… Cioè… Queste foto… Queste foto… Sono facilmente riconoscibili… Come dire… Un fotografo che riesce a raggiungere uno stile… Così marcatamente riconoscibile… È una cosa anche abbastanza rara… Te lo dico… Cioè… Perché comunque… Una delle cose… Come dire… Un fotografo dovrebbe fare… Che chiunque dovrebbe fare… È avere un suo stile… Facilmente riconoscibile… Cioè… Un'impronta… Lo dicevamo l'altra volta… Come una foto editor… Far sì che uno veda una fotografia… Pur senza leggere di chi è… La individui… Molto… Lui in realtà… Perché un po' tutti su Facebook… T'abbiamo seguito nel frattempo… Quindi… Ma perché all'inizio… Tutti pensavano che stessi esagerando… Ma io non esagero mai con la parte medica… Se sto… All'inizio… Tutti dicevano… Ma no… Ma vedi… Guardate che… Infatti… Non è un'influenza… Non è un'influenza… Diciamo che poi tu sei stata fortunata… Ritorno un attimo sul discorso… Perché tra l'altro hai avuto… La forma più lieve… Che lieve non è… Tra l'altro… Però è la forma più lieve… Del coronavirus… Giusto? Sì… Questo il medico mi ha detto… Perché io non ho fatto il tampone… Perché non… Non… Non lo potevano già più fare… Però il medico mi ha detto… Sì… Guarda… Te lo dicevo… Hai la forma lieve… Ma stai tranquilla… Perché sei giovane… E ho detto… Allora mi rilasso… Però… La forma lieve… Significa che non ti intubano… Però… Per fortuna… Stai male comunque… Sì… Invito veramente… Le persone… A non sottovalutare… E a non… Credere a tutto… Nel senso che… Io… Non becca solo gli anziani… E non uccide solo gli anziani… E anche se uccidesse solo gli anziani… Non andrebbe bene comunque… Non è che… Qui… Cioè… Siamo consapevoli che è una malattia stronza… E se stiamo attenti… E usiamo le lenzuole di casa… Da fare gli autoscatti… Tra l'altro sarebbe anche una bella sfida… Questa cosa che condivido con te… Nel fatto che… Viene più spontaneo a noi donne… Utilizzare il nudo… Ma non solo per vanità… Forse anche per vanità… Ma anche perché sappiamo… Che… Secondo me… Parlo in un plurale… Ma così… Giusto per darmi un tono da conferenza… Signora mia… Ma… E anche perché è una lingua… Che noi sappiamo… Che viene compresa… E maggiormente accettata… Invece in un uomo… Viene subito… È più difficile… A parte il fatto che noi nude… Siamo più gnocche… E su questo c'è poco da fare… Però sarebbe anche una bella sfida… Per gli stessi uomini… Per gli stessi uomini… Perché noi usiamo… Cioè… Per me il nudo… Non è solo… Guarda quanto sogniocca… Ma è piuttosto una scelta politica… Ideologica… È un linguaggio che so che… Arriva… A prescindere dall'esito… Diciamo… Malizioso… Sarebbe una bella sfida… Per parecchi uomini… Ma non è che domani… C'è un povero Mark Zuckerberg… Blocca mezzo Facebook… Tutti coi gioielli di fora… Però… Nel senso… Sarebbe… È anche una bella sfida… Questa cosa… Io lo volevo fare in un momento… Di ritrarre… Qualche uomo nudo… Ma perché… Mi interessava anche la visione… E anche la relazione… Che si potesse creare… Tra… Una… Una visione femminile… Che cerca comunque il corpo… Di una donna… E un uomo… Ritratto… Cioè… È bello anche… Ho letto… Marina ci dice… Marina Alessi dice… Gli uomini hanno più stereotipi… Può essere… Ma può essere anche… Che in realtà noi uomini… Voi donne siete molto più… Ora non voglio fare un discorso di sesso… Però secondo me… Effettivamente voi donne siete molto più… Riflessive su voi stesse… Di quanto non lo siamo noi uomini… Cioè noi uomini tendiamo molto a sterilizzare… Cioè noi la vediamo… Anche la fotografia… Noi la… Come dire… La vediamo… L'arte in generale… Come un modo di ingabbiare la realtà che è esterna a noi… Difficilmente riusciamo a… Anche esporci come… Anche esporci come hai fatto tu per dirti… Cioè tu… Comunque… Hai fatto un lavoro di esposizione… Non solo del tuo corpo… Ma anche della tua anima… Cioè di te stessa… Cioè dei tuoi… Come dire… Ho cercato… Sì… Di quella era la sfida maggiore… Senti… Scusa un attimo… Piccola interruzione tecnica… Qua davanti abbiamo quattro minuti di diretta… Che facciamo? Continuiamo… Cioè tra quattro minuti la diretta cade… Continuiamo dopo o… Ah per me… Io continuerei… Io facciamo… Io tanto guarda… Ho posticipato tutti i miei eventi… C'avevo da fare una conferenza a Tokyo… C'avevo da andare al mercato a fare una gara… A New York… Ho sospeso tutto… E quindi guarda… Oggi rimango a casa… Ma proprio solo per te… Guarda… Guarda… Ti ringrazio… Guarda… Sono veramente… Rimango a casa… Che era poco che non stavo a casa… Quindi… No no… Però per dire appunto… Che tra qualche minuto cadrà… E poi riprendi… Faremo ripartire… Ah ti devo richiedere la… Sì sì come prima… Come abbiamo fatto prima… Quindi lo dico soltanto per quelli che stanno seguendo… Se vedete che se stoppa… Riprendiamo… Come dire… Le trasmissioni riprenderanno un minuto dopo… Noi non molliamo… Noi non molliamo… Noi non molliamo… Noi non molliamo… Senti… Allora stavamo dicendo… Se siamo persi… Quindi… Tutti gli uomini nudi su Facebook… Tutti gli uomini nudi… Allora… No però nel senso… No però poi dico… Anche psicologicamente noi uomini… Secondo me abbiamo anche molti più problemi… Diciamo… A mostrarci proprio nudi… Cioè nel senso… Anche semplicemente… Molto probabilmente siamo molto più… Molto più facile farlo nello spogliatore di una palestra… Per dire che… Come atto artistico… Stranamente… Sì però è anche vero che… È facile subire però poi anche gli attacchi dal punto di vista estetico nelle donne… No perché poi esce una cultura che ancora in parte sessista… Ma non è che voglio fare anche il comizio sul femminismo… Però è anche vero che quello diventa un'arma a doppio taglio… Perché è facile poi essere attaccati per il lato estetico… Cioè a me è successo nell'ironia assurda del fatto che è venuto un mio grandissimo amico… Che saluto… Che ha allestito varie mostre… Che è Vincenzo Lega… E guarda la foto quella arancione… Che è un primo piano del culo tagliato… Il mio… Mi dice… Oh… Ma… C'hai la cellulite? E io… Eh certo… L'ho fatta apposta… E mi è sembrato surreale questo discorso… Perché ho detto… Wow… È bellissimo… Un uomo che… Si approccia così… Amichevole ovviamente… Senza paura di essere linciato… E una donna che non ti lincia… Per un commento sulla sua cellulite… Io l'ho visto un inno al futuro… L'ho visto bellissimo in questa cosa… Capito… Proprio la libertà della bellezza… Nelle sue palesi imperfezioni… Che… Chi c'ha di più… Chi c'ha di meno… E ce l'abbiamo un po' tutti… E… E diventa un inno… Ma non… Non voglio che diventi… Secondo me… Un… Evidenziare il difetto… Ma un approccio… Alla sua… Normalità… Capito… Non all'Alexander McQueen… Che metto una modella senza una gamba… Ed è figa perché non c'è la gamba… No… È normale nella sua bellezza… Capisci… Non so se… Sì… Mi piace quello… Non… Non scelgo una modella perché non ha le braccia… Ma perché… Perché è bella così… È un'opera finita a se stessa… Capito… E quello che… Scusa… No… Allora… Chiudiamo… E riprendiamo tra qualche minuto… Per favore… Ricollegatevi… Che purtroppo adesso… Instagram farà cadere la diretta… Quindi la blocco io… E ci rivediamo tra… Meno di 10 secondi… 3… 2… 1… Chiudo… Ciao… Ciao… Oh… Guarda… Non sei andata via… Guarda… Mi hai beccato giusto pelo pelo… Che stavo andando qua… Al mercato… Per comprare… Un po' di verdure… Signora mia… E… Tra l'altro che qui… Dalla zona Malasagna di Madrid… Dicono che sia anche abbastanza… Storica… E… Celebre… Io… C'ho solo qui… I quadretti qua fuori… Qua sopra… Che dicono… Beh… Senti… Però in qualche modo… Sono anche migliori di molti quadretti… Da hotel… Che… Sono in giro… Sì… Sì… Poi io gli regalerò per forza… Gli voglio mandare… Quando saprà… Senza mettere a rischio morte… Eh… I corrieri… Ma gli voglio regalare una foto… Perché… Cioè… Se no… Manco per strada potevo stare… Cioè… Linee aeree… A parte che non potevo salire… Perché io non è che faccio una strage… Che prendi un aereo… Le strade non puoi stare… Qui c'è l'arresto… E se l'hotel chiudeva… Io non lo so… Stavo… Infatti a quel punto ho detto… Ma le che va… Mi faccio arrestare… Perché… Che posso fare… Cioè… Scusate… Senti… Noi stiamo facendo un discorso molto… Molto… Molto interessante… Diciamo… Sulla bellezza… E sulla bellezza della normalità… O anche del difetto… O di quello che viene… Normalmente… Come dire… Mi piace questo gesto dei Simpson… Normalmente… Tra virgolette… Indicata come bellezza… Tu… Venendo dalla moda… Ovviamente… Come dire… Hai lavorato tantissimo appunto… Con modelle… Con… Adesso… Soltanto negli ultimi anni… Diciamo… Nel mondo della moda… Si sta accorgendo… Della bellezza altra… Cioè… Di come in realtà… Appunto… La normalità… Della maggior parte delle persone… Nasconda… O in realtà… Sia bellezza… Anche quella… Quindi… Non c'è bisogno di vedere… Di vedere per forza… Lo stereotipo classico… Della modella… Coscia lunga… Perfetta… Anche perché… Ve lo dico… La maggior parte dei casi… Le modelle… Non sono perfette… Cioè… Nel senso… No… Chi ha lavorato nella moda… Sa che… Una sedicenne… Dopo tre ore di trucco e parrucco… Dai professionisti… Favolosi… Con… 70 mila euro di vestito addosso… Difficilmente… È brutta… È arrivato anche Giovanni… Eh… No ma in effetti… La cosa… Diciamo delle modelle… Che ho notato in questi anni… In cui ci ho lavorato… È che quando sono in giro… In realtà… Sono semplicissime… Non hanno trucco… Non hanno… Nessun tipo di acconciatura… Non si mettono abiti molto… Visto… Le vedi sempre andare in giro… Le vedi sempre in giro… Appunto… Jeans, maglietta… Capelli raccolti… O sciolti… Senza trucco… Perché… Poverine… Stando… Diciamo… Anche 12-13 ore su un set… Diventa veramente… Massacrante… Senti… Tu dicevi appunto… Che hai avuto questo scambio… Con questo tuo amico… Molto simpatico… In cui tu hai avuto… Come dire… Giovanni ci manda dei baci… Ciao Giovanni… Mangiamo anche noi… Giovanni Gatto… Senti… Invece… Appunto… Hai avuto… Tu dicevi che hai avuto… Molto… Perché potrei… Quando tu fai un lavoro… Come il tuo… Diciamo… Un nudo artistico… L'autoritratto… Diciamo… Di nudo artistico… Ovviamente ricevi anche molte critiche… Tu… Non tante quante dovrebbero… Secondo me… Faccio… Ufficialmente… Un appello… No… Perché… In realtà… Sì… Nel senso che… Magari… Ora… L'esempio citato… Era scherzoso… Nel senso… Mio carissimo amico… Però è vero che… Magari… Quando… Si mostra un nudo… È come se… Magari… Più di uno… Si possa… Uno o una… Si possa sentire autorizzato… A criticare la parte estetica… Quindi… Che non corrisponda… A un criterio estetico… A una convenzione… Diciamo… Di bellezza… Che ricordiamo… Che i canoni estetici… Variano… Non dico… De anno in anno… Ma quasi… Forse anche… Ma anche di paese in paese… Quindi… Sì… Per cultura… Per religione… Per esperienza personale… Anche per percorso… Personale… Per me… Prima… La bellezza… Era un determinato… Aveva determinati livelli… Adesso per me… Bello… Significa… Qualcosa che… Non mi lascia… Indifferente… Che mi spinge… A chiedere… A volere di più… Ma che mi nutre dentro… Questo è bello… Quindi… Dalla bellezza di una modella… Alla bellezza di una pantofola… Per tornare all'argomento principale… Alla bellezza del coraggio… Alla bellezza del perché… Determinate… Di una storia… Ecco… Una cosa che mi ricordo sempre… Che prendevamo in giro i fotografi di moda… Era… Ci deve essere una storia… E noi tutti impanicati… Oddio la storia… Poi… Poi ho capito… Cioè… Ci deve essere un… 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 Qualcosa che vada oltre… L'effetto estetico… Eh… Principale… O protagonista… Perché sicuramente chi fa… Lavora con le immagini… Chi… Chi… Qualunque persona creativa… Qualunque essere umano… La parte estetica… La nota… E ci fa i conti… E… E… Va bene… Sia che ne soffruisca… Che la realizzi… Però poi si va anche oltre… Almeno quello è il tentativo… No… No… Per esempio… Una delle cose che… Giovanni ripete spesso… Gastel appunto… Ripete spesso… Tutti i ragazzi che iniziano… Che fanno moda… Vogliono fare moda… È di non mettere le modelle in posizione innaturali… Di non far mettere le modelle in posizione innaturali… Perché ogni tanto vedi queste… Queste contorsioni un po'… Un po' particolari… Io… Però sai… Magari c'è la modella sul divano classico… Tutta storta così… Però in realtà… Per esempio… Effettivamente… Con lo storytelling all'interno di un servizio di moda… Si potrebbe anche eventualmente giustificare… Diciamo… Un determinato tipo di posa… Anche un po' estrema… Una posa… La Egon Schiele… Per dire… Presente Egon Schiele… Che ha tutte le… Tutte le strutture del genere… Però potrebbe essere… Se un… Diciamo… Un potetico servizio di moda… Ispirato appunto… Alla pittura di Egon Schiele… Potrebbe avere un senso… Mentre la modella… Buttata lì… Su un divano… Come dire… Normale… Una situazione anche magari… Bella… Barocca… Tutta storta… Non ci sta… Diciamo… La storia all'interno della… Della fotografia di moda… È quella anche… Serve un po' anche a raccontare… O a giustificare quello che tu stai vedendo… Sì… Sì… Io non sono particolarmente fan della fotografia di moda… Nel senso che ne riconosco come… Come… Chi ci ha lavorato e chi ha conosciuto… Il grande e duro lavoro che c'è dietro delle immagini all'apparenza… Molto… Belle… Estetiche… Uno magari si ferma lì… Non si pone… Come… A comprendere se non hai vissuto… Tanto tempo… Lavoro… Fatica… Fatica vera… Proprio fisicamente anche tanta fatica… Però cerco in qualche modo di andare a volte per contrasto… Cioè ben consapevole che il mio percorso esce anche attraverso le mie foto… Cioè secondo me si vede un percorso estetico che non lascia… Cioè un finto casuale a volte… O almeno questa è l'intenzione… Però allo stesso tempo cercò di andare per contrasto… Cioè per esempio come ti dicevo… Mai vestiti… Mai che l'abito prenda troppo il sopravvento… Ma che diventi un complice se vuoi dell'immagine… Non pose ecco troppo stereotipate o false… Che danno magari l'idea di… Mi metto in posa per il fotografo… No… Come uno scatto… Come uno scatto se vuoi… Anche questo famoso termine… Rubato se vuoi… Proprio… Rapito da un'immagine di vita non vita… Perché non sono immagini di vita reale… Io non è che vado a fare le foto in mezzo alla città… Né vuota né piena… Almeno fino adesso no… Anche perché ta resta… Non si va in giro nuda… L'ho fatta in un bosco… Sono tornata a… Mia nonna aveva una casa in un bosco… L'ha venduta… L'ha venduto mio nonno quando è venuta a mancare… E io ci sono tornata… È una riserva di caccia… In mezzo al bosco… Dove hanno aperto anche questo agriturismo con tre stanze… Io sono andata nuda a farmi le foto… E sono tornata piena di fango… Perché mi ci sono tuffata nel fango… Rischiando… Uno… Che i cacciatori… Mi confondessero con un cinghialotto… E là… Non li potrei… Perché… E due… Di farmi male… Perché sono finita… Ecco… Proprio un bosco vero… Però… Io sconsiglio… Ecco… Sconsiglio… In questi tempi… Per… Per… Per isolamento… Ma in generale… Ecco… Sconsiglio… Il nudo nella natura… Se non… Con… Anche perché… Io faccio sempre… Sola… Io scatto sempre sola… Sì… No… Aspetta un attimo… Ti interrompo un attimo… Che qualcuno ha scritto… Dimitri ha detto… Facile… Prende in giro la moda… Con la moda si mangia… Con il resto banale… Compresi i bravi… Noi non stavamo prendendo in giro… Un po' estreme… Che a volte vengono fatte… All'interno della moda… Effettivamente… Io ci mangio con la moda… Perché comunque… Alla fine ci lavoro anche… Però effettivamente… Diciamo… Sono… Non si prendeva in giro la moda… E semplicemente… Appunto… Si stava spiegando… Come… Lo storytelling… O comunque… Determinate… Accorgimenti… Possono giustificare… Un'estetica… Sì… Ma come… Avevo fatto tutto il preambolo… Super politica ricorrezza… No… Forse… La regina mi… La regina mi ha chiesto… Un estratto… Tutta da mezz'ora a sottolineare… Che è un lavoro durissimo… Anche fisico… Io mi sono caricata… Non so quante valigie… No… È un lavoro… È un lavoro… Faticosissimo… Che… Veramente… Cioè… Anzi… Bisognerebbe fare… Proprio più documentari… Per… Per evidenziare… L'estremo impegno… Cioè… Spero che il signore di prima… Si è nascolto adesso… Solamente… Sai… Quando si fanno… Si fanno vedere i backstage… I servizi di moda… È sempre tutto… Uh… Che bello… Ma in realtà… È un lavoro abbastanza faticoso… Perché a volte… Sono lavori di tantissime ore… Con tantissime persone… Che lavorano… In… Bravo… Anche quello… Anche quello… È un… Sono team molto… Molto… Pieni di persone… E questo… Comporta una notevole fatica… Anche organizzativa… Metodica… Cioè… È molto stressante… Come lavoro… Io… È divertente… Devo dire… Cioè… Comunque è un lavoro divertentissimo… E poi la fortuna di lavorare con Giovanni… Adesso non voglio fare una sbiodinata… Però effettivamente… È molto divertente anche… Però effettivamente… È un lavoro in cui… Devi essere… Devi concentrare tantissimo… Devi essere… Devi essere lì… Devi saper superare le crisi… Che ogni tanto ci sono… Quindi… Addio… Non è arrivata la scarpa… Cavolo… Un problem solving… Allucinante… Allucinante… Mago a mago… Perché devi risolvere… Serve un vestito rosso… Di sei metri… Non c'è problema… Capito… Assolutamente… Quello che io… Mi sento dichiarire… È che… Non è che qui… Anche qui… Per par condice… Politica ricorre… Per favore… Non partiamo dal presupposto… Che… La fotografia di moda… Si fa… O serve… Per guadagnarci… E nel resto no… Perché questi sono cliché… Che ci tengo a sfatare… È vero… Perché io non è che so l'eccezione… Non è che ho scoperto… Un milione di sterline… Sotto un tombino… Allora dici… Là… Hai avuto la fortuna… Penso piuttosto… Siano magari cliché… Da sfatare… Senza voler sminuire… O senza voler dire… Che è facile… Perché non è… Non sono percorsi facili… Assolutamente… Ma neanche la moda… Comunque un percorso facile… Quindi no… Assolutamente… No… Assolutamente… Però… Penso che si faccia per vocazione… E per… Per talento… E per passione… E per amore… Soprattutto… Però non significa che altri tipi di fotografia… Non possano portare… E ovviamente… Un guadagno… Comunque riuscire a vivere… Sì… Assolutamente… Con… Sì… Allora… Prima di continuare… Volevo dire che se c'è qualche domanda… Perché poi tra l'altro… Avevo visto che c'erano delle domande prima… Però… Me le sono perse… Quindi c'è un box… C'è un tasso… Con un punto interrogativo in basso… Chiunque voglia fare delle domande… Molto brevi… Perché altrimenti… Instagram le taglia… Non è uno strumento perfetto… Però… Facili… Facili… Lui eh… Lui chi? No… Perché a me mi risulti sopra… Non so se… Sì… No… Sono sopra… Questa è la destra… Questa è la sinistra… Non so… Io mi vedo anche abbastanza… Tipo specchiato… No… Senti… Al di là di questo… Quanto ti è servito… Diciamo… Nella tua esperienza… Comunque anche sui set… Perché tu fai tutto da sola… Cioè… Tu fai… Allestisci… Prepari la macchina… Ti metti in posa… Scatti… Gestisci le luci… Tutto da sola… Ti è servito in qualche modo… Il tuo percorso… Anche nella… Nella… Nella moda… E quindi sui set di moda… Per… Diciamo… Queste… Posso chiamarle pantomime anche… Che tu fai… Cioè… Nel senso che effettivamente… Sono… Delle messe… Sena… Come dire… Autarchiche… Va? Io… Faccio tutto… Ma… Ti ripeto… Per povertà… Adesso forse… Più che altro… Anche per timidezza… Mettiamoci anche questo… Perché… Quando fai le… Non mi riferisco necessariamente al nudo… Ma… C'è sempre l'ansia prestazione… E quindi… Se coinvolgi qualche persona… Ti senti automaticamente… Il diritto di compiacerlo… O di… Assecondare i gusti dell'altro… Io perché sono… Non ho ancora capito… Se sono una finta estroversa… Una finta timida… Un malterno… A tal che alterne… Credo che sono entrambe… Perché… Bipolare al massimo… Per ovvi motivi… Però… E quindi… Non… Mi risulta davvero difficile… Coinvolgere… Eh… Persone… Pur… Magari… Aiuto… Il segno di saggezza… Di maturità… Però… Non è tanto quello… È quanto che… Io non so mai cosa vado incontro… Quello che viene fuori… Io mi butto in un mondo di… È come se… Veramente… Mi tuffo in un mondo mio… Ma che non conosco… E quindi… Convolgere qualche persona… Dal punto di vista tecnico… Mi… Mi paralizza proprio l'idea… Forse semplicemente… Perché non ho esperienza in merito… Ho iniziato a fare qualche ritratto… Che poi tra l'altro… Ho iniziato dal peggio… Perché i bambini… Io… Io… Zero esperienza con i bambini… Pensavo che fotografare un bambino… Significasse… Mettiti lì… E guarda qui… Buona… Guarda qui… Che innocenza signora mia… Guardi proprio… Dopo che ho capito che… È una vera sudata… Proprio un allenamento olimpionico… Fare le foto ai bambini… Ho deciso di non farle… No… Le ho fatti… Però ecco… Questo era un consiglio… Per esempio… Che mi aveva dato… Gastel… Ti ricordi… La presentazione del libro… Quello di sfidarmi con i ritratti agli altri… E un po' ci sto provando… Però è un… Per chi non è abituato… Faccio vedere… Tu hai fatto anche… Per esempio… Questo progetto… Amore Anna… Che si chiama appunto… Retinoblastoma… E faccio vedere… Scusate… Purtroppo… Abbiamo detto che non è un mezzo perfetto… E… Faccio vedere un paio di fotografie… Che mi… Che… Ho scaricato dal tuo sito… Tra l'altro… Non ho scaricato le foto di Ilaria… L'ho fatto io… Per ovvi motivi… Guardi… Riceverà subito notizie dal mio legale… Guarda… Io non ho più un indirizzo… Quindi… Non hai più cosa… Non ho più un indirizzo… Scapperò in Messico… Appena finita la quarantena però… Eh… Guardi… Io non lo so… No… Però diciamo… Questo qui è un progetto che tu hai portato avanti… Anche come raccolta fondi… Diciamo… Per… Come dire… Per supportare la ricerca… Sì… Sì… Retinolastoma… Per non lasciare dubbi al titolo… Perché è il termine scientifico-medico del tumore… Anna ha avuto la mia stessa situazione… Cioè ha una protesi al destro… Ed è anche lei sopravvissuta… È un po' più giovane di me… È circa… L'aveva due anni e mezzo… No… Forse quattro lì… È operata anche lei molto piccola… Recentemente… E… Anzi… Ringrazio ancora la mamma… Perché insomma… Proprio in virtù di questo messaggio… Che vuole essere positivo… Costruttivo… E di mettere i propri strumenti a disposizione del mondo… Per quello che si può… Ovviamente… Come si può… È stato quello proprio di fare dei ritratti… A lei… A una ballerina… Che si chiama Elena Travaini… Che… Che… È lei… Sì… È la ballerina… Lei Elena Travaini… Ha avuto… Bifocale… Cioè… Ha avuto il retinolastoma in entrambi gli occhi… Inutile soffermarmi… Sull… Sull'aspetto terribile di questa cosa… Perché… Lei vede pochissimo… Solo da un occhio… E… Però… È una ballerina professionista… Sì… Tra l'altro c'è anche un ritratto suo… Che se non sbaglio… Forse era la locandina… O la copertina del libro… No… C'è un suo ritratto… Un primo piano… Che io avevo scaricato… Ma purtroppo adesso… Non me la fa… Quella con il collo bianco… Sì… Sì… È lei… Che praticamente… Avendo… Lei è stata seguita… Non in Italia… Ma… Quindi… Diciamo… All'epoca… Ha avuto… Le hanno fatto una terapia alternativa… Chiamiamola così… Quindi ha questa… Si vede proprio come se… L'orbita sia molto più grande dell'occhio stesso… Io questo lo trovo… Nella sua drammaticità… La sua bellezza… Proprio perché… Per il discorso di prima… E… E questo è il messaggio che io tendo… E amo… Amo… Dare… Cioè… Proprio quello della… Della bellezza… Del coraggio… E di sostegno… A chi sta attraversando questo percorso… Sia in termini di informazione… Che in termini di cura… E quindi… Sia la mostra… Che è stata fatta… Che sarebbe stata… Portata in giro per l'Italia… Ora… Per ovvi motivi pandemici… Non è possibile… Però… Non viene… Sostenuto dalla ricerca italiana… Ma nel mondo… Adeguatamente… Proprio perché non raggiunge un numero di morti… Diciamo… Tra virgolette… Sufficienti… Ma… È terribile… Perché colpisce soprattutto i bambini… E non avendo sintomi evidenti… Può portare alla morte… Perché ovviamente… Come tutti i tumori… Sì… Abbiamo detto prima… Cioè… A volte casualmente… Ci si accorge appunto di… Di avere… Cioè che qualcuno soffre di questo tipo di tumore… Cioè da una fotografia col flash… Quindi… Però se non si interviene in tempo… E il bambino ha le cellule che si riproducono molto velocemente… Se una volta raggiunto il cervello… La… Diventa… Fatale… Quindi… Ecco… Abbiamo fatto un libro… Sì… Tu fai anche… Tu avevo visto sul tuo sito… Ma te l'avevo anche sentito parlare… Diciamo… Tu fai parte anche… Diciamo… Di una… Associazione… Aspetta che vediamo… Artisti Uniti… Parli di Artisti Uniti… Sì… Ecco… No… Artisti Uniti è una storia bellissima… Nel senso che… È semplicemente… Una sera terribile… Mi sono accorta che la situazione mondiale non andava tanto bene… E mi riferisco alla politica… E non ai virus… E di un anno e mezzo fa… E a quel punto ho detto che cosa posso fare… E ho aperto una semplice pagina su Facebook… Che è diventata virale… Adesso siamo tipo 22 mila persone… Ed è una rassegna stampa di tutte le iniziative… Anche così ero venuta a conoscenza di 100 fotografi… Di tutte le iniziative che si trovano in giro nel mondo… Soprattutto in Italia… Perché soprattutto italiano… Ma a me… Io penso al mondo… E iniziative artistiche a sostegno dei diritti umani… Perché ho detto… Sai… Quando sei un artista e ti metti a disposizione del sociale… È facile che poi… Chi cerca la polemica a tutti i costi… La trova… E dice… Ah… Perché ti stai autopromuovendo… Io faccio quello che posso… Se sapessi fare l'uncinetto… Mi metterei a fare l'uncinetto… Riesco a fare foto… E non so… Bravo a fare l'uncinetto… Non ci ho mai provato… Chissà… Però… Mi trovo bene… Magari… A fare foto… E uso quello… Ma… Certamente… C'è poi anche un riscontro… Nella comunicazione… Benvenga… Ma questi sono tutti… Sono tutte iniziative in cui io non… Non vedo… Non… E non voglio assolutamente nemmeno un euro… Come retino la stoma… È stato tutto finanziato da… Sia da Lamberto Fabri che da sponsor privati… Tra l'altro Lamberto Fabri lo saluto… Perché ho visto che prima continuava a scrivere… In realtà… Noi stiamo parlando… Quindi ho visto diverse… Diversi interventi suoi… In cui parlava appunto della tua arte… Quindi… È difficile un po' seguire tutto… Eh sì… No… Per me è pure… Io sto dal cellulare… Non sto dal… Io sono dall'iPad… Quindi… A volte mi… Eh sì… Però sì… Comunque lo salutiamo… Abbiamo letto… Comunque abbiamo visto i commenti prima… Senti… Ti volevo fare due domande… Poi passo anche le domande… Diciamo di che queste sono arrivate… Tu… Ho visto prima il set… Quindi non ti sei fermata in realtà… Stai producendo… Cioè… Hai ripreso a fare fotografia… Giusto? Oggi… Dopo aver steso… Signora mia… Ho… Ovviamente non potrò… Non posso né far nudo né saltare… Perché non è che me la metto a rischio… Non solamente perché… Comunque sono ancora… Ho ancora il virus… E quindi eviterei… Anche perché una delle cose che fa questo virus è… È… Altalenante… Quindi ti dà l'idea… A un certo punto fai la coatta… Dici no… Sto bene… Faccio… Dico… Vado… No… Per ovvi motivi… E poi ti ritorna… I sintomi… Quindi… Devi stare attenta… Non posso saltare… Per ovvi motivi… Anche perché se ti fai male… Sotto pandemia… Non è che… No… Anzi… Non è proprio il massimo… No… Anzi bisogna stare molto attenti anche a quello… Perché nessuno lo dice mai… Però anche se fai un… Come dire… Sali su una scala a casa… Cadi… In realtà questo è il peggior momento per andare… Sì… Con tutto il corso… Sì… È una questione anche etica e civile… Sì… Sembra una cosa stupida… Però appunto… Non bisogna cercare di aggiungere altre problematiche… Assolutamente… Quello che c'è adesso… No… Assolutamente… E sì… Sì… Mi sto rimettendo adesso… Anche perché sento la… La necessità… E anche perché… Oh… Non essendo ancora… Guarita… Se devo morire… Moro come dico io… Facendole fuori… No… Faccio le corna… Cioè… Una non è che… Se sono gli ultimi giorni… Almeno una dice… Io me la godo fino all'ultimo… Guarda… Facciamo gesti un po' tropaici… Per scongiurare questa cosa… Però uno la deve prendere pure… Cioè… Scusa… Se devo… Almeno decido io… E che devi fare… Insomma… Perché se dovesse succedere… Prima che arrivano a salvare il corpo… Io nel frattempo… Sono proprio… Polvere… Però… Ecco… A parte gli schessi… Sì… Cerco… E mi piaceva anche di cogliere la sfida… Perché… L'autoscatto… Usare il corpo… Sia nudo che… Come vi pare… È un modo… Per… Entrare un pochino… No… In comunicazione con le proprie sensazioni… Ho detto… È un gran percorso quello che sto facendo… Anche umano… No… Perché comunque… Io… 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 Non sono credente… Ma ho un po' pregato… I primi giorni… Il mondo… Nessun Dio… Nello specifico… Ti ritrovi un po' a fare i conti… Ora… Seriamente… Con il fatto di essere… Un corpo che… Prima o poi se ne andrà… Ecco… Diciamola così… Alla larga… La prendo il concetto della mano… Però la fotografia ti mette a confronto con la morte… Cacchio se te la mette… Sia con il corpo… Sia con… Con una stessa immagine che rivedi nel tempo… Sia con un fermo immagine che sai che… Non si recupererà mai più… Anche se è un autoscatto… E ti dà quel senso di eternità… Cioè… Io credo che… L'arte in generale… Ma… La fotografia ancora di più… Ti dà quel senso un po' da Dio onnipotente… Perché dici… Io ho fermato un momento di vita mio… O… O di un esterno… Per sempre… E quello… Quello… Quel file… Ha più… Speranza di vita… Nel senso più a lungo… Di me… Se è mantenuto adeguatamente… Una fotografia stampata adeguatamente… Sponsor… È un altro… È un altro… È un altro discorso molto lungo in realtà… Quello che stai… Che stai affrontando in questo momento… No no… Però è vero… Cioè… Sì sì… Però è effettivamente vero… Poi se riesci… Se riesci a farlo… Con una valenza anche artistica… E anche lì ha… Come dire… Molta più… Cioè sì… Effettivamente hai una sensazione abbastanza diversa di quello che hai fatto… Cioè… Non solo fermare un attimo… Ma averlo diciamo… In qualche modo… Io… 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 Forse… Io… Forse… Per egocentrismo eh… Vabbè… Ma io… Lo sai che ho pensato… Quando stavo sotto… Vabbè… Sotto botta… Febbre a 39… Il medico che ti dice… Non ti preoccupa… C'è la forma lieve… Tra… Una cagarella e l'altra… Tra un dolore terribile e l'altro… Questo è il momento raffinato… Signore… Il momento colto… Però bisogna dire le cose come stanno effettivamente… Sì… Sai che… Cioè veramente… Stai molto male… Non sto esagerando… Credi… Mi sto… Sto sdrammatizzando tanto… Però io… Lo sai che ho pensato… Di… Di scrivere il… Il… La password di Dropbox… Dove ho tutti i file… Perché ho detto… Così qualcuno li potrà… Magari stampare… Quella cosa… Cretinissima… Poi tra l'altro… Scusami tanto… Date una calmata… Non è… Cioè non è che abbiamo Newton… Però… Mi ha dato come il senso di… Ho salvato la vita… In qualche modo… In quel momento… È stato il mio unico appiglio… Per dire… Sì… Ho lasciato qualcosa… Sì… Capito… Cretino… Perché… Cretino… Perché insomma… Un po' vanitosso… Diciamolo… Però in quel momento… È stato molto… Però dai… Se… Se c'è anche un'intenzione… Nel fare arte… Quello appunto… Di lasciare comunque un segno di sé… Cioè… Di lasciare… Io… Io… Sono esistito… Cioè… Ho fatto qualcosa… E… Come dire… Questa cosa qua… Magari avrà delle ripercussioni… Molto più a lungo rispetto alla mia vita… Sì… Anche per il sociale… Io ho lo stesso discorso che faccio… Nel senso… Se io posso essere utile… Questo è come… Un espandere la mia vita… Ma… Non perché voglio la statua in piazza… Ma perché… Ho… Ho toccato… E ho contribuito… A più vite possibile… Nel bene… Senza grandi manie di grandezza… Perché basta anche un come stai… Ah… Basta anche una… Una foto… Basta quello che puoi… Per poter… Ed è questo il senso della vita… Perché questo è il senso dell'arte… Parliamoci chiaro… È questo voler dare il nostro meglio… Il nostro peggio… Per aiutare il meglio e il peggio delle persone… Perché noi siamo… Un binomio stupendo… Il nostro… Lato più orribile… È da lì che possiamo attingere… Io ci credo tantissimo… Il nostro meglio… È dal tumore… Dalla mia esperienza del tumore… Questo non significa che uno festeggia… Quando ti becca una sfiga… Dice… Ah che bello… Ci ho garantito le prossime tre mostre… No… Non è così… Però… Cerca di tradurlo… Perché è materiale… E dici… Che ci devo fare… O… 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 O mi dispero… O lo metto a lavorare… Sì sì… Figlia di madre stacanovista… Grande lavoratrice… Ho detto… Io metto a lavorare tutto e tutti… I dolori… Ah subito… Ma vedi il corona… Già ho messo a lavorare… Che te credi… Sì sì… In effetti c'era anche… Diciamo… Giovanni aveva chiesto… C'è una base di ricerca psicoanalitica nel tuo lavoro… Sì… In parte avevamo già risposto… Avevi già parlato di questa cosa all'inizio… Adesso comunque l'hai… L'hai ridetta… Perché tu effettivamente… L'hai fatto… Diciamo… Iniziato a fare fotografia… Appunto per… Diciamo anche… Per capire… Sì… Per capire… Tu pensi… Cristina… Maria Cristina ci chiede… Scriverai la tua esperienza drammatica vissuta da sola? Cioè quello che tu hai vissuto in questi giorni? Allora… Io sono dell'idea che la fantasia salvi la vita e ho le prove concrete signori… Perché dopo 25 giorni con febbre a 40 uno deve trovare il modo… Allora ho risolto questo… Io sto fingendo che sono la protagonista di un film hollywoodiano che finisce bene… Ho scelto che hollywoodiano perché la fine del mondo può essere… Solo gli americani possono fare un film sulla pandemia… Ma sto a Madrid… E ti ho detto… È regista Almodovar… Allora io… Faccio finta… Faccio finta che sto in un film che finisce bene… Quindi ragazzi… A posto… Tranquilli… Ci salviamo tutti… E sto scrivendo il libro come se io già avessi superato tutto questo… E mi sono messa a scrivere… Perché è anche quella una terapia… Nel senso che ti senti che sei tu che stai dominando la situazione… Come la fotografia… È un'illusione ovviamente… Perché poi scrivi quello che te esce… E te scopri che insomma… Leopardi in confronto era un grande ottimista… Però… Ti dà un senso del potere… Sulla realtà che non puoi avere in questo momento… Perché quando si tratta di pandemia… Essere malata di un virus che dicono mortale… E crisi economica mondiale… Tanto la situazione è sotto controllo… Non ce la possiamo avere… Però… Ho deciso… Ho detto… Sai che c'è… Io scrivo… Magari sarà una schifezza… Però mi butto un po' come con le foto… Ci… Ci provi… Eh sì… Perché tanto stavo a letto… Avevo solo il pc… E ho cominciato… Questo lo tagliamo poi nella conferenza stampa… E allora mi sono messa a scrivere… Magari finisco la terza pagina… Magari la racconterò… Secondo me può essere utile… Anche a livello fotografico… Oggi è iniziato… Vediamo che esce fuori… Ho già notato un'Ilaria diversa… Un'Ilaria molto più silenziosa… Meno… Una cosa meno scenografica… Poi magari domani è tutta un'altra cosa… Però questa cosa… Questa possibilità di dire… Di mettersi già nel ruolo di… Lo trasformo come… Se fosse utile per qualcun altro… Già ti aiuta ad affrontare quella situazione… Che non è ancora risolta… Almeno… Non nel mio… Che io sappia… Non mi pare che possiamo uscire tutti… Almeno qua in Spagna… No… E Conte ancora non mi ha chiamato… No… Guarda… Non sarà… Non sarà breve… E… Può essere secondo me… Una buona terapia… Io invito quindi… Tutti gli uomini nudi su Facebook… E tutti a scrivere… Senti… Un'altra cosa… Dato che appunto… Noi stiamo cercando anche di dare degli spunti… Tu che consiglio ti daresti… A chi magari vuole iniziare… A fare autoritratto… O magari a chi anche… Non ci ha neanche mai pensato… A fare autoritratto… Bene… Bene… Innanzitutto… L'autoritratto… Sicuramente esce la vanità… Ma… Di non pensare al risultato finale… Ecco… Io quello che… Normalmente mi accorgo… Quando comincio a fare cose… Che dico… Sì… Ma non mi dice molto… È perché sto… Imponendo la mia visione… Sulla… Sulla… Sulla macchina… Invece… Secondo me… In gioco… In gioco… Con la macchina fotografica… Senza pensare… Oddio la post… Oddio il like… Oddio… Mo son photographer… O queste cose qua… Ma… Mettersi a giocare con la macchina fotografica… È lì che… Secondo me… Si può cominciare a parlare… Di… Di anima… E non di corpo… Certo… È un percorso che si abbina… Con un percorso introspettivo… Secondo me… Non facile… E non… Non scontato… Però se vogliamo parlare di fotografia che vada al di là o che provi ad andare al di là, è quello secondo me la scelta da fare. Non programmare, io non programmo, mi lascio guidare dal momento e seguo molto l'istinto, tantissimo l'istinto, anche con i colori, quando ho i tessuti comincio, butto questo di qua, di bu. Evito di arrampicarsi e saltare in questo momento per tutelarsi se si salta o se ci si arrampica, io normalmente cerco di mettere un materasso o qualcosa sotto che automaticamente non becco quando cado, però cerchiamo di proteggerci e di non, penso sia normale partire da immagini che conosciamo, ma di non cercare di emulare troppo o di usare troppo il lato razionale, ma di buttarsi perché la fotografia permette questo, a differenza di tante altre forme artistiche che magari c'è più, c'è un percorso più lento tra l'inizio e la fine magari di un'opera, ma questo inganna, la fotografia ti fa credere all'inizio, almeno a me, mi ha fatto pensare, è facile ed è sua responsabilità, cioè della macchina, in realtà è tutto il contrario, quindi diversela con leggerezza, con spensieratezza, senza l'ansia della deprestazione, senza il dover mettere a rischio nessuno, quindi non in giro, chi fa foto per strada, a meno le non addetti, quelle non sono foto, quelle non è, abbiamo, no, no, non si fa, ecco, e soprattutto prendere questo come scusa, io lo trovo molto più, adesso da artista te lo dico, come scelta d'artista, lo trovo molto più interessante un fotografo che con nulla, e non perché è il mio percorso, o forse non solo per quello, ma che con niente riesca a dare un senso di solitudine con uno scatto in una casa normalissima, arredata da Ikea 2018, piuttosto che dover andare a cercare l'effetto scenografico, che il scenografico non è, mettendo a rischio se stesso e la comunità, lo trovo, cioè, lo trovo molto più bello, una sfida molto più interessante e colta, e molto più difficile da realizzare, e questo è il momento perfetto, signori, why not? Sì, appunto, abbiamo tutto il tempo, appunto, Che culo, no? No, beh, guarda, in realtà, nella sfiga di questo periodo, in realtà, l'abbiamo già detto, noi viviamo in un periodo anche abbastanza fortunato, in realtà, perché abbiamo mille strumenti ormai quotidiani a portata di mano, abbiamo detto che anche in realtà non avere una macchina fotografica, però avere un buon cellulare, comunque potrebbe essere già uno strumento per fare qualcosa, e se fosse successo già negli anni Ottanta, quando io ero piccolino, in realtà avevamo una televisione, sei canali, sette, forse qualcosa di più, però, cioè, in realtà non avevamo, sì, si può leggere, si può, appunto, i libri ci sono sempre stati, però è anche vero che in questo momento abbiamo tanti strumenti anche per creare, sotto mano. Esattamente. Perché la televisione, o comunque un libro, in qualche modo è uno strumento passivo, tu lo recepisci, lo leggi, sicuramente ti apre tantissimi orizzonti, però in questo momento abbiamo tantissimi strumenti anche per scrivere, appunto, dal computer all'iPad, fare fotografie, disegnare. Io senza internet sarei morta, perché ho quelli che mi portano la spesa, e senza, non potendo uscire, signora mia, non avendo materiale qui, perché è un albergo. Eh, sì, non è che la cucina, manco l'olio, signora mia, ma non lo manco lo zucchero, quindi non è che... E poi, comunque, Facebook, che io chiedo scusa a chi non mi ha, nel frattempo, tolto l'amicizia, a chi è rimasto, perché mi ha dato l'unico modo per comunicare col mondo, perché era quello. È stato il mio modo per sentirmi che ancora facevo parte di una comunità e per non perdere completamente la testa, perché se no rimani completamente isolato. E dal punto di vista creativo, cavolo, è un periodo favoloso. In realtà, gli artisti e gli imprenditori dovrebbero festeggiare nei momenti, no di pandemia, ma di scarsezza, perché è lì che esce veramente l'estro, è lì che veramente, lo so che sembrano frasi motivazionali da sette di mattina prima dell'ufficio, ma in realtà è così, perché è proprio qui che esce il vero estro che fa parte di ogni essere umano. Quando proprio non hai risorse, lì che ne trovi migliaia. E poi, quando tornano le risorse, le riesci a gestire in modo veramente più adeguato e senza magari spreco di soldi, di tempo, o anche di pretesti futili, perché a me molti mi hanno chiesto, ah, perché io non uso Photoshop, per esempio, il mosso è dal mosso del corpo e del tessuto, ma molti mi hanno detto, ah no, perché devo scaricare e comprarmi il programma di qua, la macchina super costosa di là, o questi strumenti che sicuramente per un determinato tipo qualitativo di stampa o di immagine servono, ma per chi vuole iniziare o la prende come me, nel senso di divertirti, io c'ho una macchina che vale meno dei 50 euro, che io saluto cortesemente, però... Però quella ti ha aiutato anche a trovare il tuo stile, diciamo, cioè l'errore... Sì, sì, sì. Quello che un'altra persona avrebbe detto, no, ma sta macchina non vale niente, invece tu l'hai sfruttata e hai creato le tue opere. È svolgere proprio a funzionare, non voglio... Assicurala, assicurala, te lo dico. Ottore un'altra. No, ma perché io non voglio sminuirmi, però è proprio quello che diventano le grandi fortune, perché magari se a volte succede che noi esseri umani abbiamo troppa scelta, poi in realtà ci blocchiamo, perché è talmente come un menù vastissimo. In pizzeria poi io chiedo sempre a Margherita, però magari stai due ore a cercare a vedere tutti i tipi di pizza. A volte magari avere veramente zero risorse, io le foto che considero o più belle le mie, o che hanno avuto più riscontro, sono quelle veramente o per sbaglio, ce ne sono alcune, questo lo cancelliamo poi... E non si può fare. Allora, signorina, ascolto, eliminate le ultime... No, è vero, o prove, o sbaglio, o che era rimasto qualcosa sul set e poi gli ha dato un senso, o perché proprio è stata la magia del momento, perché l'autoscatto è anche molto magia, molto merito delle circostanze, perché stai danzando con anche elementi casuali, perché il tessuto come si muove non è che lo decidi te fino a un certo punto. Quindi anche questo poi lo cancelliamo. No, no, però in realtà non va cancellato perché in realtà tutti pensano che la fotografia sia un'estrema costruzione, in realtà solo la pittura è un'estrema costruzione, dove ogni pennellata è un atto del pittore. In realtà nella fotografia, in qualsiasi tipo di fotografia, c'è un'altissima percentuale di casualità. Anche per esempio nella fotografia di moda, dipende dalla persona che è davanti, da come sta in quel momento, da tantissime cose che non puoi neanche, in qualche modo, neanche preventivare. Anche se tu magari ti sei costruito tutto il, ah mi sono fatto il disegno, voglio questo, voglio quest'altro, deve essere così le luci, questo, invece poi c'è sempre un fattore di casualità che devi accettare, devi saper gestire al momento. Ed è quella la sua bellezza, perché poi sono una serie di elementi che tu in quel momento sei artista del cast, cioè il lavoro è là, poi no, sul set, che sono diecimila persone, o te con te stesso, è comunque come un maestro d'orchestra in quel momento. E tante sono le coincidenze che non puoi preventivare. A volte anche una luce improvviva, perché la luce cambia ogni due secondi, quindi magari in quel momento un gioco, anche il tuo stesso umore incide tantissimo. Ed è giusto che sia così, e non è assolutamente, io non programmo un cavolo, cioè io quello che programmo è sapere da dove viene la luce, che normalmente è la stessa finestra, perché non è che affitto posti, è sempre la stanza dove vivo, che sia a Londra, che sia a Milano, che sia a Roma, più o meno è una luce laterale, e poi i teli che trovo o che compro ai vari mercatini dell'usato, oppure ogni tanto torno a fare alcune maschere, alcune cose che mi diletto, che adesso non posso per ovvi motivi, e che so i colori che mi piacciono di più, che può essere il rosso, il turchese, l'oro. Non programmo, non è che uno si mette a fare allora voglio trasmettere, ma io questo non lo faccio mai, non so nemmeno se è possibile, cioè voglio trasmettere questo senso di, che ne so, di perdita, ma che ne so, magari io in quel momento ho tutt'altro stato umorale, la foto trasmette tutt'altra cosa, ed è giusto secondo me che sia così, perché stiamo parlando di arte, non di radiografie, e anche di radiografie volendo. Quindi, secondo me, qualunque fotografia parla del fotografo, e attraverso l'immagine parla del fotografo, anche se sia di moda, anche nei reportage, nei reportage delle manifestazioni, o delle guerre, tu trovi il fotografo, trovi la visione politica, ideologica del fotografo, spesso e volentieri. Quindi, lo trovo meraviglioso, è pura poesia della vita, la fotografia come altro, secondo me, eh. Senti, Milaria, io devo dire che sono state praticamente quasi due ore pienissime, quindi, no, davvero, cioè, poi, tu sei molto simpatica, quindi, probabilmente riesci, anche a, come dire, a spiegare, diciamo, anche facendo ridere, quello che tu fai, fondamentalmente, anche il momento in cui, cioè, non facendo ridere, cioè, diciamo, facendo sorridere, che detto così sembra brutto, questa la tagliamo. come dici tu. La rifacciamo questa, grazie. No, però, sai, effettivamente, come dire, sapete che stai, io quando ho iniziato a leggere, appunto, che stavi lì a Madrid, effettivamente stai male, come dire, mi aspettavo tutt'altra situazione, però effettivamente stai reagendo comunque molto bene, devo dire, psicologicamente. Ma no, questo non è, anche merito mio, che sono passati 20 giorni, diciamo che non abbiamo potuto fare questo video, 20 giorni fa, perché avrei stoppato 30 volte, per motivi implicati. No, già l'altro giorno, quando ci siamo visti, due giorni fa, per esempio, tossì molto di più, quindi vuol dire che in questo momento tu stai, stai già, stai migliorando tantissimo. Io ricordo la videochiamata che abbiamo fatto qualche giorno fa, e hai tossito molto di più, quindi significa che comunque stai migliorando tantissimo. Quindi, io sono contento di aver, di sapere che stai riprendendo a fotografare. Quindi, io spero soltanto che ci si riveda presto. Dai. Non sarà prestissimo, questo lo sappiamo, però, perché per ovvi motivi, perché pure noi qua siamo tutti bloccati, e dobbiamo stare a casa. E niente, io ti ringrazio tantissimo, davvero, è stata una bellissima chiacchierata. Io invito tutti a guardare le foto di Ilaria sul suo sito. Ilaria Facci, aspetta, ripetiamo, IlariaFacci.com, giusto? su la tua pagina Instagram, o sul tuo Facebook, insomma, perché tu hai anche una pagina Facebook, giusto? Ah sì, ho tipo 4-5 profili, perché Facebook mi va bannando da una parte, lo apro dall'altra. Ti seguiamo ovunque. Mi trovate, io sto ovunque. Marco ormai si è disperato, non sa più come fa Facebook. Uno e due. Io ti mando davvero un bacione, un saluto, un abbraccio forte dall'Italia. Va bene? Grazie, un bacio grande da Madrid. Grazie. a presto. Ciao, ciao. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.